25esima puntata, quinto anno di Panorama Sardo, rimaniamo e ci confrontiamo sul tema dei trasporti in una puntata che per gran parte sarà dedicata ovviamente alla politica, un tema che abbiamo seguito dal 4 di marzo, andremo a riflettere su quanto è accaduto nella giornata di domenica per quel che riguarda le elezioni e poi nella giornata di lunedì nel momento dello spoglio con grandi sorprese. La scorsa settimana abbiamo avuto il nostro ospite, il direttore generale di CTM e abbiamo affrontato il tema del rinnovo della flotta, oggi lo facciamo nella sede dell'Ars con l'amministratore delegato Chico Porcu che è stato capace a mio parere di un'impresa, quella di rinnovare un'azienda che è partecipata dalla regione ma che si è sempre trovata nel tempo in grandissime difficoltà di bilancio. Che cosa succedeva nel passato, che cosa è successo oggi? Ma io ne approfitto per dire al nuovo Consiglio regionale, tu hai accennato le elezioni, c'è un grande tema che è quello del trasporto pubblico locale. Noi siamo un operatore exturbano, svolgiamo un'attività sociale, di perequazione sociale, facciamo la cosa più bella che si possa fare, cioè noi portiamo i ragazzi a scuola tutti i giorni, 60.000 ragazzi e 60.000 pendolari. Purtroppo questo grande tema, che è un tema di diritti, diritto alla mobilità, diritto allo studio, è un tema che spesso, lo dico anche per esperienza personale, mi assumo una parte di responsabilità importante, è rimasto indietro nel dibattito politico, cioè sentiamo a parlare di tirreni, il caso tirrenia, sentiamo a parlare di continuità territoriale aerea, ma la continuità territoriale interna, cioè quella in cui ogni cittadino esercita il proprio diritto a potersi muovere con un mezzo pubblico, senza un'auto privata, anche in contesti a domanda debole, cioè nelle zone dell'interno, quelle con maggiori difficoltà di trasporto, questo è un tema che spesso non avvertiamo, non fa parte dell'agenda della politica, magari ci lamentiamo quando un pulma non arriva, quando c'è un disagio, quando c'è un picco di insoddisfazione. In realtà è un'attività fondamentale, noi come Ars siamo l'operatore exturbano per l'eccellenza, cioè l'intera rete, tranne una quota di privati, della rete interurbana, extraurbana è gestita da Ars e quindi tutti i giorni fronteggiamo questo problema. E come dicevi tu, ci siamo trovati di fronte a un'azienda che dal punto di vista operativo era eccellente, perché lo dicono i dati del Ministero, cioè il costo standard di Ars è il 15% più basso del costo standard fissato dal Ministero dei Trasporti per le aziende già eccellenti. Allora come era possibile, cioè il paradosso che mi sono trovato a affrontare è stato come è possibile che un'azienda efficiente sul piano operativo poi faccia fatica a chiudere i conti. Studiando, approfondendo, cercando di analizzare i dati di bilancio ho scoperto che ai noi per tanti anni, per circa 10 anni, si era smesso di investire sulla flotta. Non investire sulla flotta ha due effetti. Uno, crea un disagio per i poveri utenti costretti a viaggiare su mezzi vecchi, obsoletti, che ogni tanto si fermano, dove qualche volta piove dentro, che certamente non danno l'idea all'utente, allo studente che è importante, cioè non gli danno l'idea che la regione consideri importante il diritto allo studio. Io dico sempre dovremmo portarli in Rolls Royce a studiare, dobbiamo portarli con il nostro mezzo migliore, non con il nostro mezzo peggiore. E poi il secondo aspetto è operativo, cioè una flotta come quella di Ars, che ha circa 700 mezzi che viaggiano tutti i giorni, che ha un'anzianità media di oltre 13 anni, ha un costo operativo rispetto a una flotta con un'età della metà di 6-7 anni, di circa 8-9 milioni di euro all'anno. Quindi è un doppio svantaggio, maggiori costi e maggiori disagi. Ecco, ci sono stati dei segnali positivi alla fine di questa legislatura. L'auspicio è che questa inerzia, questo input, questa consapevolezza che sul trasporto pubblico locale bisogna investire, sia un qualcosa che caratterizzi tutti quelli che governano e ci sia una continuità da questo punto di vista nel ridare centralità a questo fondamentale servizio pubblico. Andiamo al dettaglio e voglio presentare al nostro telespettatore, meno attento, Chico Porcu, protagonista negli ultimi 30 anni di tante vicende che riguardano la nostra regione. In realtà sono anche troppi, mi aumenti gli anni, 20 diciamo, 20 di sicuro. 20 abbondanti. Chico Porcu è stato stratega di operazioni che vanno dalla nascita di Tiscali, ha seguisto questo grande progetto innovativo, poi video online e poi si è ritrovato immerso nel mondo della politica, ma io domando, oggi c'è un rinnovamento di questa flotta che era la più vetusta sicuramente della nostra regione perché CTMS era rimessa al passo e compagnia bella, oggi si parla di un investimento da 153 milioni di Euro e di 500 nuovi mezzi per la flotta dell'Arst. Ma sì, da questo punto di vista devo dire che il governo precedente, quello guidato da Renzi Gentiloni, ma anche l'attuale governo guidato da Conte hanno confermato la strategicità di investire sul servizio pubblico. Inizialmente si è investito sul ferro, si è parlato di cura del ferro e sono arrivati nuovi treni, cosa molto importante perché Arst, oltre a essere l'operatore su gomma, è il settimo operatore di trasporto pubblico in Italia, ma in Sardegna opera su gomma, su ferro, con la metotranvia e anche col treno verde, cioè il servizio turistico. E lì ci sono altre novità, altri investimenti, il rilancio di un progetto turistico che interessa le zone interne della Sardegna. Anche lì c'è un rilancio molto importante di cui magari parliamo durante l'intervista volentieri, però per tornare agli investimenti. Quindi si è partiti con nove nuovi treni che sono stati allocati sostanzialmente sulla Sassere Alghero, che è una delle linee più frequentate, Sassere Alghero e Sassere Risorzo, e poi sulla Macommer Nuoro. E poi si è dato seguito, e devo dire, grazie anche all'attuale governo, è stato firmato il protocollo di intesa con la Regione Sardegna nel mese di gennaio, quindi stiamo parlando di una notizia fresca, e siamo in attesa della Convenzione a questo punto, cioè il protocollo di intesa tra Ministero e Regione, e stiamo alla firma della Convenzione invece tra Regione ed Ars, che dovrà gestire le bande di gara per dotare la foto di questi 500 nuovi mezzi. È una buona notizia da un lato, dall'altra mi viene a dire che sarebbe bene che dal punto di vista operativo si comprassero 100 mezzi ogni anno piuttosto che aspettare 10 anni per comprarne 500, dopodiché ci fa molto piacere averne 500 nuovi, questi mezzi per dare un vero beneficio ai nostri utenti avranno bisogno tra procedure di gara e tempi di produzione di circa due anni, quindi il nostro obiettivo qual è? È da un lato velocizzare al massimo e accorciare i tempi affinché questa nuova flotta che abbatterà i costi e migliorerà il servizio. Di quanto si abbattono i costi in termini di usura e di carburante? L'ho detto, circa 20 centesimi al chilometro, tradotto per un'azienda come la nostra che fa 35 milioni di chilometri all'anno, trasportando ogni giorno 60 mila persone, sono 8-9 milioni di euro all'anno, stiamo parlando di poterci comprare quasi autonomamente con contratti adeguati, 40-50 bus da soli, avendo dei mezzi nuovi. E poi c'è anche il profilo ambientale. C'è il profilo ambientale perché rispetto ai nostri Euro 1, Euro 2, della nostra flotta, agli Euro 6, ai mezzi ibridi di ultima generazione, l'abbattimento del particolato, dei solfati, dei nitratti, del CO2 in atmosfera è di quasi 4 quinti, cioè viaggono 5 bus e producono le emissioni di un bus di quelli attuali, quindi sicuramente un contributo molto importante. A nostro visitatore turista ci presentiamo con un bel biglietto da visita? No, certamente il turista, ma soprattutto l'utente di tutti i giorni, lo studente, lo studente che da Baunei deve andare alla Nausea, lo studente che da Orgoso deve andare a Nuoro, cioè il messaggio più importante è il messaggio per le nuove generazioni. Quindi questi 500 mezzi arriveranno entro due anni, noi contiamo come azienda sia di coprire questi due anni con un lotto precedente, adesso di 65 mezzi che sta entrando in servizio, e poi con un acquisti avendo rimesso i bilanci in pareggio, anche qui grazie a un'azione incisiva che abbiamo portato avanti negli scorsi mesi per spiegare la natura dei nostri conti e del fatto che i costi del servizio pubblico non fossero coperti. Contiamo con altri 40-50 mezzi di coprire i maggiori disagi di questo periodo per poter dire che finalmente i nostri ragazzi dal 2021 potranno andare a scuola con un mezzo moderno, tecnologico, che gli dia tutto il messaggio e l'impronta di una regione che ha cura di loro, ci tiene che vadano a scuola e vadano a scuola nel mondo migliore. Guardavo la classifica redata annualmente dalla Nuova Sardegna delle aziende più importanti dell'isola, Ars si classifica i primissimi posti, con quanti dipendenti? Ars è 17esima nella classifica regionale per fatturato, è la settima in Italia nel settore del trasporto pubblico. Ars è una grande azienda, credo che sia la azienda di diritto privato più grande della Sardegna controllo pubblico, poi naturalmente abbiamo Saras che è in mano al gruppo Moratti. Ha oltre 2.150 dipendenti, di cui oltre la metà sono autisti conducenti, poi abbiamo circa 400-500 autisti. La media è abbastanza alta, intorno ai 50 anni, però ci sono dei segnali positivi, lo dico anche ai giovani che mi guardano in questo momento, abbiamo deciso, già l'anno scorso sono entrati 30, soprattutto ingegneri, in Ars, l'anno scorso abbiamo fatto un esodo incentivato, un'operazione virtuosa che ha accompagnato alla pensione 90 persone e contiamo di sostituirla in parte con conducenti, perché in gran parte non conducenti, ma con 35 giovani laureati. Quindi anche da questo punto di vista Ars è un'azienda che si rinnova, che aumenta le sue competenze, le sue conoscenze, perché il mondo del trasporto pubblico è un mondo anche in cambiamento e le ricette del passato vanno bene fino a un certo punto, è un servizio che si sta sempre più digitalizzando, stanno cambiando sia dal punto di vista gestionale logistico, sia dal punto di vista delle interfacce con l'utente, quindi anche Ars si prepara al nuovo, si prepara al futuro investendo sui giovani. Concludiamo parlando di questo incontro che avete avuto la scorsa settimana con gli operatori turistici per il rilancio del trenino verde e a questo punto parliamo di un progetto che è nato nel XIX secolo. È vero, ti ricordi bene, la nostra ferrovia ha compiuto da poco 130 anni e devo dire che anche la metotranvia, questa bellissima metotranvia che abbiamo a Cagliari, a Sassari, Cagliari ha circa 12 km di estensione e fa 2 milioni di viaggiatori all'anno. Tu sai Valerio che ha 6-7 mila, circa 7 mila viaggiatori al giorno, abbiamo riportato la percorrenza ogni 10 minuti. E in 2021 si arriva in piazza Matteotti? In 2021 si arriva in piazza Matteotti, quindi dà proprio l'idea che la città metropolitana è diventata una città di profilo europeo, perché il trasporto su sede fissa, elettrificato e a inquinamento zero, è sicuro, non incontra il traffico, è efficiente, tecnologico e comodo, quindi è in grande sviluppo. Però il genitore, il nonno della metotranvia, perché la metotranvia si sviluppa nel trasformare i vecchi tracciati a scartamento ridotto in ferrovie elettrificate, cioè in realtà c'è una continuità di infrastruttura. La metotranvia è collegata alla ferrovia e collegata alla ferrovia turistica, è un tutt'uno. Quindi quel progetto che 130 anni fa aveva portato la ferrovia a scartamento ridotto vive nella modernità con la metotranvia, ma oggi nell'attualità con la ferrovia turistica, che è una ferrovia di 437 chilometri, che grazie a un investimento che ha fatto l'aggiunto uscente di circa 10 milioni di euro, riapriremo entro 12 mesi nella sua interezza, quindi potremo riandare da Mandas ad Arbatax in treno. Il ponte a che punto è? Allora, i ponti con queste risorse faremo le gare, li andiamo ad appaltare, quindi i ponti da Mandas ad Arbatax, se parli del ponte di Barrali... Io parlavo proprio di quelli. Il ponte di Barrali è sulla Isile in Montserrato, la buona notizia è che i primi di aprile, Valerio, tu verrai a trovarmi, noi prenderemo il treno se sei d'accordo, da Isile a Montserrato, perché vediamo se ho mantenuto l'impegno. Quindi riapre ad aprile, questa è una buona notizia per i pendolari che dalla Trecenta vogliono raggiungere Montserrato e quindi la metotranvia in tempi brevi e sicuri e poi io invece parlavo dei ponti da Mandas ad Arbatax, quindi vanno riaperte tutte le linee Mandas ad Arbatax, Mandasorgono, Tempio Palau e Macommerbosa e grazie a un protocollo di intesa anche lì che è stato fatto tra la Regione e il Comitato del Terreno Verde sono state aumentate le risorse annuali per la gestione dell'infrastruttura e l'azienda nell'ambito della propria attività di tipo più sociale intende dare forza alle attività di trasporto, l'anno scorso abbiamo fatto circa 25 mila chilometri treno, quest'anno faremo qualcosa in più, ma se l'insieme dell'attività dell'azienda avrà quel respiro lungo che è necessario per darsi un'organizzazione adeguata l'impegno dell'azienda è di assolvere sempre più la propria missione di essere il soggetto che contribuisce allo sviluppo locale e quindi investire sul terreno verde, dico investire perché il trasporto non è sovvenzionato, la parte di trasporto turistico non può essere sovvenzionata perché sarebbe un aiuto di Stato, quindi è l'azienda che autonomamente pur essendo un'attività imperdita sceglie di dare vita concreta alla propria missione e fa dei chilometri treno per favorire il turismo che è il perequatore ideale perché il trino verde va dalla costa all'interno, parliamo sempre di come trasferire l'economia della costa all'interno verso i paesi all'interno, combattere lo spopolamento, combattere l'effetto ciambella, abbiamo un attrattore, un'infrastruttura che lo fa anche fisicamente di portare i turisti dalla costa all'interno, gli va data vita, la regione sta facendo la sua parte nel sistemare la parte infrastrutturale, cioè la rotaia, il ballast, le gallerie, i passaggi a livello, l'azienda intende fare pienamente la propria facendo viaggiare di più i treni e consentendo da tutto quel mondo che sta intorno al treno verde di operatori, di ristoranti, di alberghi, di agriturismo, di ipoturismo, di cicloturismo, di poter avere i benefici di avere i turisti, avere i viaggiatori e quindi dare anche il respiro all'economia dell'interno e consentire anche e soprattutto ai tanti appassionati di conoscere la Sardegna per interno. Noi abbiamo una regione meravigliosa, tu sai che io l'ho percorsa a piedi, in bicicletta, in arrampicata e sono innamorato della mia regione, mi fa piacere oggi di poter dare una mano con questa bellissima azienda a far sì che in tanti possono conoscere anche attraverso il treno verde le zone dell'interno. Benissimo, grazie davvero Chico Porcu, ci siamo un po' dilungati però era una chiacchierata importante in un momento decisivo per una grande azienda dell'isola. Adesso affronteremo, dopo aver dato la linea alla regia, un tema delicatissimo, con la recessione è raddoppiato il numero degli immobili pignorati, che fine fanno questi immobili, quanto vagono, chi cura la loro certificazione, ne parleremo tra poco e poi andremo alla politica, con il commento dei colleghi dell'Unione Sarda, della Nuova Sardegna e del Fatto Quotidiano per analizzare quanto è successo nelle elezioni del 24 febbraio a tra poco.